E' tornata in Piazza Grande la musica di Arezzo Summer Jazz Festival, l'appuntamento estivo che porta in città le stelle del jazz italiano. Come Jazz Club di Arezzo lavoriamo per questo, per far sì che i giovani si avvicinino al jazz e un po' ci stiamo riuscendo. Questa sera la piazza è piena di giovani. Primo appuntamento con una grande big band, la Jazz on the Corner Open Orchestra, diretta da Francesco Giustini. E' un repertorio vario, sia gli standard jazz più famosi, sia alcune realizzazioni di composizioni originali del direttore d'orchestra Francesco Giustini. Piazza della Badia ospiterà anche il concerto inaugurale, il secondo appuntamento della rassegna, entrambi annullati per maltempo. Il 4 settembre ci saranno due gruppi, il primo è il Round Midnight e il secondo gruppo Winters. Il 5 ci sarà il GTA Quintet e poi un gruppo importante, il Simoni Quartet, che è un sassofonista fantastico. Il 4 settembre ci sarà il gruppo di